Per il London Fog mettere in infusione del te nero, meglio se Earl Grey. Aggiungete poi del latte caldo con schiuma. Per preparare la cioccolata calda con nocciole, cuocete le nocciole in forno a 180 gradi per circa 10 minuti. Una volta raffreddate, sbucciatele e tritatele grossolanamente. Fate sciogliere 50 g di cioccolato fondente in 200 ml di latte con 2 cucchiaini di polvere di cacao amaro. Potete dolcificare a piacere. Aggiungete le nocciole tritate, spegnete il fuoco e lasciate riposare per 15-20 minuti. Filtrate il tutto se volete una cioccolata calda liscia. Per il tè speziato con mela, cuocete per circa 10 minuti dei pezzi di mela con 200 ml di acqua, mezzo cucchiaino di cannella, 2-3 cardamomo e 2-3 chiodi di garofano. Aggiungete poi il vostro tè preferito e lasciate in infusione per il tempo indicato. Filtrate il tutto. Aggiungete infine del latte caldo. Per il caramel macchiato è necessario della salsa di caramello. Ci sono tantissime ricette diverse per prepararlo, dipende dai vostri gusti. Io ho scaldato a fuoco medio due cucchiai di zucchero e uno di acqua. Raggiunto il colore desiderato, ho aggiunto un cucchiaio d'acqua calda. Attenzione, perché può iniziare a schizzare ed è molto caldo lo zucchero. Ho tolto il pentolino dal fuoco e aggiunto circa 3-4 g di burro. Preparate il vostro caffè preferito. Aggiungete del latte caldo. Spargete in cima un po' di salsa di caramello. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Aggiungete del latte caldo.